Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di Cina, sono sempre Giulio, volevo fare questa volta una recensione di un film proprio horror classico, appena uscito anche questo su Amazon Prime Video che è Good Night Mummy, che è un film appunto horror diretto da Matt Sobel con protagonista Naomi Watts e due fratelli che sono Cameron e Nicolas Crovetti che anche nel film interpretano due fratelli e il film è un remake, un remake di un altro horror, umanimo horror australiano, Naomi, perdona australiano, austriaco. Naomi Watts non è nuova a queste operazioni, lei il genere horror le piace farlo ed è un genere che sa anche esaltare le sue qualità di grande attrice e l'aveva fatto con The Ring, l'aveva fatto con non un horror ma con Funny Games che è un thriller drammatico, lo fa anche con questo e aveva fatto anche già altri film horror e il film è riassumibile così con la storia di una mamma che è appunto Naomi Watts che per un bel po' di anni non vede i propri figli e poi dopo un certo periodo non si capisce se perché i genitori si sono separati se ci sono altri motivi sta di fatto che il padre porta i due figli dalla madre, li lascia alla madre e li deve gestire. I due figli sono Elias e Lucas e all'inizio sembra andare tutto bene, c'è una particolarità però che la madre, appunto Naomi Watts indossa una maschera, il suo volto è sempre coperto e non sappiamo quale sia il motivo, lo scopriremo nel film. Ma c'è qualcosa che i due fratelli non torna, è proprio il rapporto con la madre, la madre ha un rapporto decisamente distaccato, decisamente benefreghista, decisamente anaffettivo e con il proseguimento del film sembra anche ai due fratelli che chi hanno di fronte non è in realtà la vera madre o la madre che conoscevano ma qualcun altro. Allora da qui parte il film ha la scoperta di chi è questa ipotetica madre e soprattutto anche anzi perché ha il volto coperto. Nella fattispecie è Lucas, quello più intraprendente che ci vuole capire di più, mentre Elias è decisamente distaccato nel vivere questa vacanza, forse un parolone, questo momento con la madre. I due ragazzi esplorano anche i dintorni, passano i pomeriggio a correre dai campi e vedono anche un fienile, una cascina abbandonata che però in realtà nel guardare, per andarci anche all'interno per capire, magari trovare delle prove, a Lucas ci sono dei dettagli, delle cose che non lo lasciano così tranquillo. Si ha la sensazione che gli porti alla memoria qualcosa ma non riesce a capire cosa. E qua il film si sviluppa in una ricerca appunto come detto sia della vera identità della madre sia del perché lei si comporta così e soprattutto anche perché il volto è coperto. Come poi andrà a finire questa ricerca, questo enigma ovviamente non ve lo dico ma posso dire che il film se da una parte per quanto riguarda la regia di Matt Sobel funziona anche perché la tensione, soprattutto nella prima parte perché già nella seconda un po' si perde, un po' slacciato e ha convinto meno, la tensione funziona, cioè si rimane attaccati davanti al televisore per capire ma chi è questa donna e quali eventuali segreti nasconde, anche perché durante la notte sempre Lucas ha degli strani incubi, quindi da un punto di registro può anche funzionare. Il problema qual è? Il problema è che il film perde totalmente la matrice, il senso del film originale, che aveva una valenza psicologica, aveva una valenza di anche, posso dire, per non svelare, fare spoiler, una valenza di ricordi e di senso di colpa, ecco, vorrebbe da dire così. E quindi il film perde di totale potenza, cioè è un film che sulla tensione riesce a tenere un po' il ritmo ma sul significato e sull'aspetto psicologico è totalmente inesistente, è stato totalmente raso al suolo questo elemento che secondo me era, non solo secondo me, era l'elemento vincente e anche il senso anche di tutto quello che sta succedendo, soprattutto poi nel finale, per cui ne viene fuori un film monco, un film decisamente indebolito da una sceneggiatura che doveva essere decisamente più precisa, decisamente più approfondita e doveva lavorare molto di più sui personaggi e sul loro rapporto, perché alla fine qua nel film vediamo solo ogni tanto che i due ragazzi escono, si infilano in qualche stanza, poi tornano nella loro, insomma è anche quando parte l'esplorazione anche della casa l'ho trovato decisamente più statico, paradossalmente, però gli mancava di verve e il più non mettere questo elemento secondo me ne viene fuori proprio un film mediocre, proprio mediocre che alla fine quando vedi la scena finale si capisci la storia ma non capisci il dramma che è stato vissuto, che anche non dico altro per non svelare, non fare spoiler, quindi è un'occasione mancata, è un'occasione mancata di fare un bell'horror psicologico, analitico, introspettivo che era la cosa giusta da fare, che era la cosa che il film del 2014 aveva fatto benissimo con una piccola produzione australiana, quindi da un punto di vista attoriale invece Naomi Watts è come sempre, come spesso, le capita, assolutamente credibile, fenomenale, vediamo una Naomi Watts in un certo senso quasi come se fosse un Dr. Jackie e Mr. Hyde, i due ragazzi sono bravissimi, ripeto Cameron Crovetti e Nicolas Crovetti sono bravi, sono assolutamente credibili, è che la forza del film manca, manca terribilmente ed è un peccato, come detto, un'occasione perduta, cosa dire d'altro? Niente, che Good Night Mami poteva essere un grande film, invece è un film decisamente mediocre che, sì, come detto, tiene abbastanza la tensione, ma alla lunga fa decisamente fatica. Per questa recensione è tutto, ciao a tutti e alla prossima. Grazie.